che cos'è? è un volo questo qua mammo eccolo Miguel è il mio è il mio uno dietro no però non penso sia il tuo quello lì è il suo rio bravo rio 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 sono qua rio 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 si perché lui non penso sia il tuo rio 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 нет come rio rio interessan rio 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 m rio rio mesi di allora grande poi con tutti questi belli amici di così direttamente dal set di dindono non potevo esimermi presente grazie domani mi raccomando certo ci faccio vedere ma sai che sarà mascotto di volo libero italy ciao siete pronti tanto aspetta ferma la macchina non farlo passare aspetta ferma la macchina un attimo alza il braccio a domani a domani ciao ci siete che aspettando Stefano Stefano vai Roma vai vai Rometta vai piccolina si va bene ma questi sono queste sono schegge ragazzi come Michele Michele vieni qua Michele vieni Michele vieni vieni mamma mia presa l'ho presa tutta si tutta ma io li amo ma io li amo ci siamo liberi in giro ehi ma io li amo ma io le persone così ma è troppo caldo buona ho l'ho ho l'ho ho l'ho ho l'ho ho l'ho ho l'ho bravo bravo Grazie.